Professor Rizzolli, con il mese di luglio parte il primo step dell'assegno unico universale per figlio. Che cosa dobbiamo attenderci da questa misura? Tanti nuclei familiari che prima non ricevevano alcun assegno, da luglio riceveranno finalmente il giusto riconoscimento per aver messo al mondo i loro figli. Dal 2022 poi scatterà l'assegno universale unico per figlio anche per tutte quelle famiglie che già ad oggi ricevono la misura degli assegni familiari e godono di detrazioni fiscali. Unico e universale perché dovrebbe comprendere in un'unica soluzione detrazioni e vecchi assegni familiari, eppure in molti non sono convinti della misura adottata dal governo. Perché assegno lascia intendere che ci sia un'elargizione da parte dello Stato verso le famiglie, ma è l'esatto contrario. Sono le famiglie che attraverso i figli contribuiscono al benessere dello Stato e lo Stato giustamente deve far valere fiscalmente questo contributo delle famiglie stesse. Del resto basterebbe guardare all'estero dove esistono già modelli validi, verificati e funzionali. L'assegno in Germania è di 220 euro per figlio più le detrazioni. Se parliamo in generale di fiscalità potremmo certo guardare alla Francia dove c'è il quoziente familiare. Purtroppo la discussione in corso sulla riforma fiscale sembra escludere l'idea che in Italia arriveremo mai a implementare il quoziente familiare. Grazie. Grazie.